ciao a tutti e benvenuti sulla biblioteca nel bosco io sono letizia e oggi andiamo ad esaminare insieme come sono andate le mie letture per questa prima metà dell'anno approfitterò di un video tag che ho trovato in giro che in realtà è un po vario nel senso che ho trovato diverse versioni di questo tag con diverse domande quindi io ho semplicemente preso le domande che ho trovato nei vari video e le ho messe insieme quindi è una specie di video tag modificato questo qui non ho una più palida idea di chi l'abbia creato quindi se stai guardando questo video e ti riconosci in queste domande palesati qua sotto nei commenti così almeno ti metto in primo piano partiamo con la prima domanda miglior libro letto fino ad ora quest'anno indubbiamente il manoscritto di tilier che dovreste aver visto nel wrap up di questo mese anche se in realtà io sto registrando questo video un po prima ad ogni modo nel mese di giugno mi sono dedicata praticamente ai thriller per la maggior parte e ho scoperto tilier meraviglioso questo non è un thriller signori questo è il thriller la trama gira tutto intorno alla sparizione di delle ragazze si sviluppa su due linee narrative che poi si vanno a incrociare tutti i nodi verranno al pettine proprio alla fine alle ultime pagine e voi rimarrete così col fiato sospeso fino alla fine perché questo libro è scritto veramente veramente bene è ripeto il thriller il romanzo thriller sono rimasta veramente stupita e meravigliata e ve lo consiglio caldamente se volete saperne di più vi rilascio al wrap up miglior sequel letto quest'anno in generale direi tutta la saga di black water non ce l'ho qui fisicamente perché l'ho posizionata una volta finita in una mensola altissima quindi non me la sono sentita di tirarla giù dopo tutta la fatica che ho fatto per riuscire a infilarcela quindi niente vi metterò qua delle immagini ad ogni modo è una saga familiare fatta da sei volumi molto molto brevi molto anche belli esteticamente sono veramente dei libri fatti bene che fa voglia di averli in libreria praticamente anche solo per l'estetica ma devo dire che in generale michael mcdowell che è lo scrittore ha fatto veramente un ottimo lavoro perché nonostante io non sia un amante delle saghe familiari è una saga familiare dalle atmosfere un po gotiche dark con un sottofondo fantasy e anche horror quindi devo dire che è una saga che è riuscita veramente bene è un tipo di inquietudine quella che riesce a infondere michael mcdowell molto subdola si ci sono delle scene un pochino più forti che magari possono turbare alcune persone un pochino più sensibili però in generale non è una saga horror ok comunque se volete saperne di più anche in questo caso ci ho fatto un video specifico in cui dico anche eventualmente se c'è qualcosa che può turbare ecco che cosa nello specifico potrebbe turbare determinate persone però io non sono una che legge tante saga vi dico la verità e quest'anno l'unica che ho letto fino ad ora è effettivamente black water ma devo dire che per un voto complessivo io comunque ho dato questa saga a quattro stelle quindi direi che l'ho apprezzata peggior libro letto fino ad ora quest'anno e la stessa domanda fatta in modo diverso era la più grande delusione dell'anno fino ad ora qua mi inimicherò molte persone me ne rendo conto ma per me la nausea di sartre è stato un libro che ho fatto veramente fatica a digerire è un libro molto apprezzato soprattutto perché dovrebbe parlare di esistenzialismo e in particolare del male di vivere i fatti narrati dal protagonista sono dei fatti particolari in quanto è come se lui si estraniasse dalle situazioni che sta vivendo e si estraniasse dal suo stesso corpo insomma tutta questa sensazione gli provoca ovviamente un grande malessere malessere che in teoria questo romanzo dovrebbe ovviamente trasmettere al lettore e dovrebbe sconcertarlo però in certi momenti si perde in descrizioni che potevano essere riassunte oggettivamente o semplicemente non servono a nulla cioè proprio al fine di della storia in sé non servono secondo me veramente niente a me dispiace perché io da questo libro mi aspettavo molto ma io gli ho dato una stella per molti può essere come dire arrogante dare una stella a sartre per il semplice fatto di non averlo magari capito perché ammetto tranquillamente potrei non averlo capito io questo romanzo però io devo valutare semplicemente quella che è stata la mia esperienza di lettura io mi sono veramente dovuta obbligare a leggere una decina di pagine al giorno e stiamo parlando di un libro di 230 pagine quando ripeto un libro come tillie che c'era 450 me lo sono mangiato in tre giorni perché non riuscivo ad andare avanti mi inceppavo mi bloccavo mi veniva da dormire io avevo sonno quando leggevo questo libro mi addormentavo qua sulla sdraio perché questa è la mia postazione di lettura solita mi dispiace ovviamente perché so che è un classico e so che è anche molto apprezzato però io non sono riuscita ad entrare dentro la storia e semplicemente a farmela piacere non ce l'ho fatta per me è stata una palla leggere questo libro e io ripeto devo valutare la mia esperienza di lettura per me è indubbiamente il peggiore che ho letto finora quanti libri hai abbandonato senza averli finiti nessuno io non sono una persona che tendenzialmente abbandona i libri cioè devi essere proprio un mattonazzo per me indigeribile anche se ripeto con la nausea ci sono andata molto molto vicina non l'ho abbandonato solo perché era relativamente breve come romanzo però con lui ci sono andata molto vicina fosse stato più lungo anche 350 400 pagine probabilmente l'avrei lasciato il genere letterario più letto indubbiamente thriller perché è il genere che apprezzo di più in assoluto anche se devo dire che quest'anno sono stata molto brava a differenziare un pochino di più i generi c'è anche tanta narrativa quest'anno in generale miglior graphic novel fumetto manga letto fino ad ora quest'anno allora io non leggo tantissimi fumetti e graphic novel in generale però leggo libri illustrati se devo scegliere un libro illustrato vi consiglio proprio ad occhi chiusi lo amerete sono nessuno certa la sirenetta di christian anderson illustrato da benjamin la comb io non potevo non infirare un libro di la combi in questo tag anche se effettivamente ce n'è anche un altro che poi vedrete dopo è un libro meraviglioso perché allora va bene le illustrazioni di la combi non stiamo neanche a parlarne sono veramente fantastiche c'è in generale però devo dire che la storia della sirenetta non quella vista nella disney è molto più cupa le illustrazioni di la combi hanno uno stile molto gotico un pochino dark e con questa storia stanno benissimo questo libro è veramente un capolavoro è anche interessante poi devo dire la verità la parte finale in cui praticamente c'è una spiegazione con anche le lettere che sono state realmente scritte dall'autore e da un suo amico in cui insomma si parla un attimo di come l'autore si sia riconosciuto nella sirenetta cioè in sostanza l'autore parlando di questo amore impossibile raccontandoci di questa storia estremamente triste perché ripeto la sirenetta non è in realtà la storia che ci viene raccontata nella disney ci racconta se stesso e la sua oserei dire relazione amorosa ma è una relazione impossibile ecco un po come appunto la storia ad amore tra la sirenetta e il principe quindi è un libro veramente bello un'esperienza di lettura veramente fantastica che rifarò sicuramente perché mi è piaciuto veramente tantissimo quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno troppi io non li ho contati ma penso che siamo intorno al centinaio forse di più perché praticamente io mi sono frenata molto finché non avevo la libreria ancora in casa nel momento in cui è arrivata più o meno verso fine anno niente mi sono data letteralmente alla pazza gioia di quali libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno nessuno perché ho deciso che farò effettivamente un decluttering però penso che lo farò più verso la fine dell'anno o aspetterò ancora un po perché voglio aspettare di avere un pochino più libri per appunto aprire anch'io un profilo vinted di vendita e insomma se ci sono anche più libri c'è più possibilità che le persone me ne comprino di più insieme risparmiando anche con le spese di spedizione quindi voglio farlo più avanti quando avrò effettivamente più libri di cui liberarmi quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto ma in generale io non vado molto a sentimento nel senso che ci sono dei libri che voglio rigorosamente prenderli usati perché non ha senso comprarli nuovi oggettivamente e aspetto l'occasione quindi semplicemente ho la mia lista ogni giorno vado a vedere se qualcuno ha pubblicato un annuncio nuovo di vendita e se c'è qualcosa di conveniente lo compro mi sta incuriosendo molto ultimamente perché lo sento citare dal momento che ci sono gli sconti mondadori middle sex non so di cosa parli so solo che comunque se dovrebbe essere una una storia lgbt se non ricordo male potrei dire una cavolata ripeto però lo sento citare molto spesso ho preso però giusto questa mattina perché l'ho visto sulle storie di instagram se non ero di fiore manni e quindi io niente appena l'ho visto l'ho subito acquistato carmilla joseph lefanu però l'edizione illustrata carmilla è praticamente la storia della prima vampira prima ancora di dracula se non erro e io cercavo appunto libro usato su vintage però non sapevo esistesse l'edizione illustrata oltretutto da un'illustratrice che ha uno stile anche qui molto gotico quindi che richiama un po' lo stile di la combe quindi niente ho deciso di prendere il libro illustrato piuttosto che prendere il romanzo normale libro esteticamente più bello che hai comprato ho ricevuto quest'anno ce ne sono due uno l'ho letto l'altro invece me lo tengo per halloween allora il primo che ho letto appunto questo mese membrana di che è un libro distopico in cui il mondo come lo conosciamo noi non esiste più in quanto è impossibile per gli esseri umani sopravvivere in superficie il sole è diventato estremamente nocivo di conseguenza tutta la popolazione umana si è trasferita nel fondale marino e ha creato una nuova società non è un libro solo esteticamente molto bello per quanto riguarda la copertina ma è anche un libro veramente bello da leggere è molto breve sono 155 pagine neanche 160 ma è veramente sconvolgente il finale ve lo consiglio e un altro libro dalla copertina decisamente molto molto bella ma che non ho ancora letto è kill creek di scott thomas questo libro io lo vorrei leggere nel periodo di halloween perché è una storia di fantasmi parla praticamente di quattro scrittori che devono passare una notte all'interno di una delle case più infestate d'america se non erro ora non mi ricordo esattamente la collocazione della casa e la copertina è oggettivamente bellissima perché secondo me richiama tantissimo il tema del libro cioè questo libro con questa copertina ti sta proprio di casa infestata secondo me è perfetta c'è già solo per questa io l'avrei comprato per ripeto l'ho trovato per miracolo ricevuto perché è difficile trovarlo in generale però adoro veramente questa copertina è bellissima e sono due copertine estremamente diverse come potete vedere questa è molto più variegata e molto più particolare però è veramente bella in generale e questa è molto più essenziale ma richiama perfettamente quello che è secondo me questo libro libri usciti di recente non ancora letti ma che vuoi leggere allora ne ho scelti quattro gli amanti della notte di meiko kawakami in uscito a inizio anno come penso comunque sia la maggior parte di quelli che vi mostrerò tranne uno parla di una donna e del suo particolare rapporto con le relazioni amorose e appunto di questa sua nuova relazione amorosa si è spensa la fotocamera questo vuol dire che sto parlando da veramente troppo passiamo a frank tillier labirinti io voglio leggere tutto di questo scrittore perché mi sono follemente innamorata e labirinti è un'uscita di forse un mese fa sono veramente curiosa ovviamente è un thriller e non vedo l'ora di leggerlo come non vedo l'ora di leggere nikki elric il filo della tua storia questo è uscito verso marzo aprile è praticamente un racconto distopico come avrete capito tra thriller e distopie ci vado a nozze in cui le persone una volta raggiunto una certa età ricevono tutte una scatola all'interno di questa scatola c'è un filo questo filo rappresenta la lunghezza della loro vita se il filo è corto la loro vita sarà breve se il filo è lungo la loro vita sarà lunga e poi ci sono persone che appunto decidono di non sapere quindi di non aprire mai questa scatola dovrebbe essere l'intreccio di persone che appunto prendono scelte diverse nei confronti di questa scatola e di questo filo e per ultimo come uccidere la tua famiglia di bella micchi che è un libro uscito a inizio anno ci hanno fatto veramente un sacco di pubblicità sono molto curiosa di leggerlo più che altro perché ho sentito pareri contrastanti ed è un po che effettivamente non lo sento più citare cioè i primi tempi ha fatto scalpore tutti lo volevano tutti lo leggevano io compreso ovviamente l'ho comprato immediatamente in libreria però dopo le prime recensioni si è perso un po' l'hype perché a quanto pare non è piaciuto come doveva ecco considerando ripeto tutta la pubblicità che ci hanno fatto è la storia di una ragazza che viene incarcerata per un crimine che non ha commesso però non è uno stinco di santo nel senso che comunque sia ci racconta come lei ha fatto fuori tutta la sua famiglia in sostanza prossimo uscito e più attese della seconda parte dell'anno allora io non vado tanto a vedere cosa uscirà cosa non uscirà generalmente scopro le cose più o meno un mese prima non di più tranne per un libro harry potter 3 quindi il prigioniero di askban in versione mina lima che dovrebbe uscire il 3 ottobre io voglio condizionare tutti i libri di mina lima perché mi piacciono un sacco esteticamente e quindi niente indubbiamente non mi farò scappare quello un libro che ti ha fatto piangere allora nessuno perché io sono cuori di pietra non piango mai per i libri posso però dirvi due libri che mi hanno commosso cioè mi hanno portato vicino la lacrimuccia non ci sono riusciti però mi hanno portato vicino allora il primo banana yushimoto kitchen che io ho in questa edizione terribile però è praticamente una un racconto di un lutto in sostanza anzi in realtà di più lutti di questa ragazza della protagonista che è una storia un po kawaii io lo dico così nel senso che lo stile con la quale viene raccontata questa storia è molto alla giapponese quindi molto kawaii ecco non saprei come altro spiegarlo io oltretutto questo libro l'ho audio ascoltato in audiolibro ed era stato letto da carolina crescentini che è un'attrice che ha quindi letteralmente interpretato questo romanzo e infatti io ve lo consiglio caldamente se dovete leggerlo lasciate perdere la lettura cartacea ascoltate nell'audiolibro perché è stata veramente bravissima e niente quindi è riuscita a farmi empatizzare molto con la protagonista però ha descritto insomma lutto in maniera non voglio dire un po fantasy anche se verso la fine un pochino di fantasy c'è però in maniera molto onirica molto delicata molto dolce che è comunque sia un tratto molto difficile da far uscire in un libro che parla ripeto di lutto io credo che sia stato il libro che più di tutti quest'anno mi ha portato vicino alla lacrimuccia però non c'è riuscito cioè nonostante l'interpretazione di carolina crescentini non ce l'ha fatta e un altro libro è anima anche questo letto a giugno di wajidi muawad la mia la mia pronuncia con questi nomi è meravigliosa come sempre niente anima praticamente è una sorta di thriller ma molto crudo ancora più crudo di Thilie perché Thilie comunque ci dà ma anima forse raggiunge dei livelli a cui non ero ancora arrivata e in certe parti la narrazione si fa talmente cruda e talmente toccante per quello che il protagonista sta vivendo che ti porta alla commozione non ce l'ha fatta perché non ce l'ha fatta a farmi piangere però verso la fine soprattutto ci sono andata vicino cioè ho avuto un tremolio all'occhio possiamo dire così è una storia oltretutto molto interessante perché viene raccontata dal punto di vista degli animali in quanto non è il protagonista che si racconta o non è un narratore esterno o meglio il narratore esterno sono gli animali che vedono muoversi quest'uomo all'interno della vicenda almeno fino alla fine in cui poi niente ci sarà un uomo a parlare è molto molto interessante anche qua se volete approfondire vi consiglio di vedere comunque il wrap up di giugno un libro che ti ha fatto ridere io non leggo tantissimi libri di questo tipo quindi ho inserito di Zero Calcare la scuola di pizza in faccia del professor Calcare che è appunto come potete immaginare un fumetto che racconta tutta una serie di vicende questa è praticamente una raccolta di varie scenette che appunto ho disegnato Zero Calcare e ci sono ovviamente alcune scene che mi hanno fatto ridere anche perché Zero Calcare riesce a passare da temi un pochino più importanti a temi quotidiani e abbastanza frivoli però risultando secondo me è sempre molto interessante nel senso che Zero Calcare secondo me potrebbe prendere una penna e realizzare un fumetto su una penna quindi niente quello che mi ha fatto ridere è sicuramente lui tra tutto quello che ho letto il nuovo autore preferito, Tilier, Frank Tilier, senza alcun dubbio la più grande sorpresa? Allora ho scelto tre libri perché mi hanno sorpreso in maniera diversa allora partendo da 1984 di George Orwell perché io sapevo che era un libro forte ma non pensavo fosse sta pugnalata nello stomaco è un racconto distopico scritto in realtà nel 48 in previsione dell'84 e qua già vediamo la genialità di George Orwell è anche questo un libro estremamente crudo soprattutto verso la fine ma devo dire che è veramente interessante vedere come effettivamente alcune cose descritte in questo libro sono poi diventate realtà quindi io ve lo straconsiglio un altro libro che poi mi ha veramente scioccata è I gene dell'assassino di Amelino Tom di cui vi ho fatto anche un diario di lettura un po' di tempo fa è un libro che ho letto in un giorno perché è estremamente breve come praticamente tutti i libri di Amelino Tom che io non conoscevo prima di appunto leggere questo romanzo ma I gene dell'assassino è praticamente un racconto che si conclude in un modo che tu non avresti mai immaginato narra di un scrittore premio Nobel che decide poco prima di morire in sostanza a una malattia particolare di concedere delle interviste a dei giornalisti dopo aver cacciato malamente i primi malcapitati riesce a farsi intervistare da una donna particolarità di questa cosa è che ovviamente questo scrittore tanto rinomato è un misogino è un uomo terribile veramente è un uomo veramente disgustoso a dir poco e sarà interessante come questa donna riesce a tenergli testa dal momento che ha scoperto che all'interno di un suo romanzo in particolare c'è un qualcosa di nascosto che riguarda la vita passata dell'autore è veramente un libro eccezionale ve lo straconsiglio si legge veramente in pochissimo tempo ma anche se fosse stato più lungo vi avrebbe veramente accalappiato e non sareste mai riusciti a staccarvi e ultimo libro che metto all'interno di questa categoria è Notre Dame de Paris di Victor Hugo illustrato da Benjamin Lacombe ora io ho questo romanzo che è comunque un classico con queste illustrazioni meravigliose quindi è ovviamente un valore aggiunto tutto ciò però la cosa che mi ha più stupito di questo libro è che nonostante sia un classico nonostante sia scritto con un metodo di scrittura non particolarmente attuale perché scritto nel 1800 cosa ci aspettavamo però la storia del golpe di Notre Dame perché essenzialmente è la storia del golpe di Notre Dame mi ha veramente stupito perché non pensavo potesse piacermi così tanto nonostante appunto lo stile di scrittura è una storia abbastanza straziante anche qui non siamo ai livelli delle storie della Disney ripeto anche qui è stata comunque una bella esperienza leggerlo con le illustrazioni di Lacombe però in generale quello che mi è piaciuto proprio è la storia come è stata narrata perché il tipo di narrazione e la storia si uniscono perfettamente cioè stanno bene insieme oggettivamente quindi sarebbe stato impossibile secondo me leggere questa storia con un timbro più moderno quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? troppi, impossibile metterli tutti all'interno di questo video però se volete vedere qualcosina comunque sia all'interno del video della TBR estiva vedete una ventina di libri forse anche 25 o qualcosa del genere quanti libri hai letto per ora e quanti pensi che riuscirai a leggere in totale quest'anno? allora noi siamo al 21 di giugno io finora ho letto 47 libri diciamo che entro la fine del mese presumo di leggerne una cinquantina forse perché ne ho tre in lettura in questo momento quindi sicuramente due li finisco quindi arriverò più o meno a fine giugno a 49 libri nella peggiore dell'ipotesi entro la fine dell'anno penso di riuscire tranquillamente a leggere un'ottantina di libri in totale nella migliore dell'ipotesi invece forse arriverò al centinaio visto che comunque sia da gennaio a giugno non letti più o meno una cinquantina quindi ci sta che io riesca anche arrivare a un centinaio di libri letti bisogna vedere appunto che libri sceglierò se sceglierò libri più o meno lunghi che mi invogliano alla lettura oppure no insomma bisogna vedere tutta una serie di cose in generale tra gli 80 e i 100 via benissimo questo è il mio recap di metà anno spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile vi abbia insomma incuriosito anche su alcuni titoli fatemi sapere ora voi qua sotto nei commenti rispondete alle domande consigliatemi qualcosa e detto questo noi ci vediamo al prossimo video e fino ad allora buona lettura a tutti ciao ciao